quando ci stanno i candler che sono peccati su peccati dovete aspettare poi dovete quando sono in peccati speccati invece da aspettare fuori poi entrate lì diventate la prossima scelta non metti i candler e poi scelta oh yeah dai ragazzi No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.